Noi crediamo che questa riforma costituzionale, se così si può definire, sia un ennesimo passo verso un taglio della democrazia, una svalutazione del nostro voto. Abbiamo l'occasione il 20 e il 21 settembre di poter dire no a una riforma, all'ennesima riforma populista che nascondendosi dietro un risparmio dello 0,07% della spesa pubblica e dietro un presunto processo legislativo più veloce vuole tagliare i nostri voti, i nostri rappresentanti. Non è vero che mandiamo a casa i nostri parlamentari, non è vero che mandiamo a casa i poltronari, anzi rischiamo di soggiogare il Parlamento alle segreterie di partito. Abbiamo quindi l'occasione di dire no a questa riforma, come è stato qui in Sicilia qualche anno fa, il taglio sarà circa della stessa proporzione e abbiamo visto come per il Parlamento siciliano questo non ha portato migliorie, velocità, più rappresentanza, perché non è la quantità delle persone che siedono in Parlamento a essere rilevanti, ma è la qualità delle persone che noi mandiamo in Parlamento. Questo per dirvi che chi vi dice che solo i potenti, solo i poltronari votano no, ecco non è così, noi siamo giovani, noi abbiamo a cuore la Costituzione, noi vogliamo un futuro migliore per l'Italia, dire no adesso significa dire sì a un futuro migliore, dire sì a un futuro in cui la rappresentanza può essere veramente valida e di qualità. Grazie. 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 Grazie.